buonasera e benvenuti a tutti per questo primo turno preliminare serie a regular season alle fasi finali del playoff primo turno preliminare di andata si sfideranno quest'oggi crazy e gol betto e tintarella sterbini la verticalizzazione va di nuovo da stufa il destro finisce di poco fuori stornelli recupera questo pallone si va da carofalo questo fa filtrante per stornelli che prova a girarsi stornelli al volo il palo poi di nuovo stornelli altro palo in fondo la mette dentro ottimazione dei crisis cross dentro e costa solo davanti al portiere non può fare altro che metterla dentro poi sterbini c'era ancora per il compagno cercare de marco che carica il destro subito il pareggio della colbet con il neo entrato de marco ora stufa c'è il compagno la girata le parti carofalo poi freddiani fra tre quarti poi freddiani con l'esterno destro la grandissima parata di pacifici tipici pallo reti ora dico alla punta a cercare corsi palline avanti quella che si stampa sulla traversa coglierlo trovate marco poi sterbini ora stufa destro di stufa e a sorpresa la colbet passa in vantaggio con il suo numero 16 daniele stufa calassi riesce ad andarsi nei calassi in tre neri di rigore contro due giocatori è calcio di rigore la rincorsa di de marco direttamente in porta 3 a 1 stefano de marco su calcio di rigore non sbaglia il trante dentro a cercare angele palla che non passa però sempre lo redi ora si fa sulla destra fa la messa dentro grandissimo gol di corsi che con un destro sorprende caperchi e fa 3 a 2 dentro corsi cresis può ripartire incontro piede ora con costa aspetta l'arrivo di corsi corsi che rientra sul sinistro il pareggio con una grande ripartenza del numero 11 corsi stufa provare a metterla dentro costretto tornare indietro ora riceve di nuovo palla la fascia destra mette il cross dentro e a due passi la mette dentro stornelli gol bet che ritorna in vantaggio per 43 finisce qui 43 vince la gol bet di intarella questo primo turno di andata